Il match point per centrare la promozione diretta in Serie B lo aveva il Perugia, contava su due risultati a disposizione e giocava in casa contro il Frosinone che invece era obbligato a vincere per effettuare il sorpasso e centrare la cadetteria. Il match point lo concretizza al diciottesimo del primo tempo di una sfida con tanto di pienone allo stadio, un destro piazzato di Moscati. Una sorta di servizio vincente, se volessimo mutuare l'immagine del tennis, sul quale Zappino non riesce a rispondere e dal quale il Frosinone non si riprende. Fa festa il Perugia che torna in Serie B dopo nove anni d'attesa, mentre la formazione Ciociara dovrà cercarla la promozione attraverso i play-off, che cominceranno domenica prossima e vedranno il Frosinone sfidare la Salernitana, già sicura del nono posto e dal quale non si è mossa dopo l'ultimo turno di stagione regolare, lasciando che la Paganese chiudesse il campionato con la prima vittoria a casa linga del girone di ritorno, grazie alla conclusione di Deli deviata dalla schiena di Berardi, che permette di firmare l'1-0 definitivo. C'erano poche posizioni da definire negli ultimi 90 minuti, con il Lecce sicuro del terzo posto è quasi certo di affrontare il Ponte d'Era, certezza che si materializza con la vittoria dei Toscani per 3-1 su un Gubbio spento e fuori dai giochi. Arrighini e Grassi, coppia goleador del Ponte d'Era, chiudono la pratica già nel primo tempo. Pera, nella ripresa, realizza il Tris dopo uno slalom tra i difensori Eugubini. Falconieri, a due minuti dal termine, annacqua un po' l'amarezza del Gubbio. Non avrebbero cambiato le loro posizioni di classifica, L'Aquila e Catanzaro, protagoniste dell'unico 0-0 della giornata, con il quale i calabresi si confermano al quarto posto e la squadra di Pagliari al quinto. Non ci sarà però il derby tra fratelli nei play-off, perché il Pisa, che vince a Viareggio e trova il L'Aquila sulla sua strada, ha cambiato da tempo guida tecnica, inizialmente affidata a Dino Pagliari. Ai play-off, i Pisani ci arrivano con Menichini in panchina e il successo in rimonta di domenica. Mungo per il Viareggio su punizione sblocca il risultato. L'ex Giovinco al diciassettesimo della ripresa e Favasuli, sei minuti più tardi, completano rimonta e sorpasso che vale il sesto posto finale. Anche a scapito del Benevento, scivolato in settima posizione e avversario del Catanzaro, dopo aver assaporato il gusto della vittoria a Prato. Evacuo ne segna tre di gol, tutti nel primo tempo e in appena nove minuti, dal trentaseiesimo al quarantacinquesimo. Nel mezzo c'era stato il Lampo di Agostini per il momentaneo 2-1, ma è il finale di gara che diventa una trappola per i sanniti. Pisani sul rigore accorcia le distanze, Bagnai a tre dal termine, in mischia trova il gol del pareggio. Nella stagione più anomala della storia della Lega Pro non vanno dimenticati in questi ultimi 90 minuti il pareggio del Barletta con il Grosseto e la vittoria a tavolino dell'Ascoli sulla Nocerina, esclusa da un pezzo da un campionato nel quale spesso si è toccato il fondo. Ai play-off l'ardo compito di regalare un pizzico di normalità.